Salve, 6 dicembre 2023, una partita speciale nel tuo stadio in un giorno speciale, questo giorno speciale l'abbiamo denominato Sabadei, e allora cominciamo con un primo piccolo omaggio guardando il monitor e voglio nello stesso. Salve, 6 dicembre 2023, una partita speciale nel tuo stadio in un giorno speciale, il tuo numero 14, la Coppa Svizzera, abbiamo visto anche la tua famiglia, cosa ti senti di dire ai tuoi tiboti stasera? Solo grazie a tutti per l'affetto che vi danno ogni giorno, solo questo, grazie, grazie davvero. E allora, 412 partite con la maglia di Alcolera, record assoluto, un record che entra nella storia del conto agliugano, la storia del conto agliugano ha contribuito a scriverla anche Re dei Mors, invito qui quale è il migliore passaggio e testimone tra colui che deteneva il record e colui che lo deterrà per tanto, tanto tempo.